allora il problema che si pone nel momento in cui realizziamo dei binari in casa è quello della giunzione cioè dobbiamo andare a ricreare questo sistema questi sono vecchi binari dell'IKEA l'IKEA ha cambiato questo sistema di giunzione evidentemente perché si rompeva e adesso invece utilizza praticamente dei giuntori di plastica che vengono inseriti qui dentro mettiamoci così, così ci si vede meglio ecco qua ho provato varie cose e alla fine il sistema migliore che mi è venuto è questo qui dove ci mettiamo, eccolo qua questo giuntore che praticamente è una specie di percento questo è un po' lento ma ne abbiamo anche di più precisi penso sono fatti parecchi ed eccolo qua praticamente come si compongono è una barretta tipo per esempio questa dove vengono inserite due semicerchi fatti con questa che è peraltro è da 12 due di questi praticamente vanno a fare il questo ecco qua lo si fa su una barretta più lunga poi si tagliano a pezzi come questo e poi si rifilano con la carta vetrata e alla fine ne viene questo vediamo un po' come fare ecco qua Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.